Laudetur Iesus Christus, Semper Laudetur Ave Maria Cari amici e cari fratelli nella fede, sicuramente vi starete chiedendo il perché di questo titolo «Ah padre Pio, che tormento!». Vi ricordate che nei Promessi Sposi Don Abbondio dice «Ah i santi, che tormento!» e lo dice dopo che il cardinal Federico Borromeo lo manda insieme al più temuto criminale dell'allora Lombardia, cioè l'innominato, a riprendere Lucia. Don Abbondio non si fida della conversione dell'innominato e ha paura, come sempre. E così esclama, di fronte all'incapacità del cardinal Borromeo di capire le sue paure, «Ah i santi, che tormento!». «Tutti i santi sono un tormento, sono uno schiaffo morale, un pugno nello stomaco per noi e per il mondo intero». Padre Pio è stato in modo particolare il tormento, il santo più scomono del XX secolo. Egli stesso, infatti, diceva di sé «Sono tormento di anime, sono fuoco divoratore!». Pur non riuscendo a capire le meraviglie e le cose straordinarie che il Signore compiva attorno a lui, in lui e per mezzo di lui. «Sono un mestero a me stesso», confidò al suo direttore spirituale. Il sacerdote Don Alessandro Bronzato scrisse un libro molto interessante. Padre Pio, un santo scomodo, e lo definisce, oltre che scomodo, guasta feste e rompi scatole. Perché Padre Pio non è un santo adatto a tutti, a tutti i battezzati, ma solo a quelli che intendono veramente convertirsi e vivere il Vangelo alla lettera. Il grande santo di Pietrelcina viene acclamato da quasi tutti ormai. Eppure non è da tutti capito, o accettato. Molti che dicono di essere devoti, di essere i suoi devoti, e magari lo sono davvero, però lo sono a metà. O meglio, sono attratti dai prodigi che succedevano per mezzo di lui, attorno a lui e che egli riusciva a compiere, avendogli il Signore concesso tanti doni mistici. A Napoli dicono «Ho tenuto la grazia, gabbato lo santo». Di Padre Pio vogliamo la grazia, vogliamo il miracolo, vogliamo la vita facile, ma il suo insegnamento scomodo non lo vogliamo. Perché San Pio da Pietrelcina, cari amici e cari fratelli nella fede, non ti lascia scampo. Ti sbatte davanti il tuo peccato e ti dice «Scegli o Cristo o il peccato, non c'è una teazza via». Padre Pio è sconvolgente, dice per esempio Don Alessandro Pronzato. È un bulldozer, non uno spalmatore di pomate e emollienti. Lui non offre calmanti, ma agitazioni. Lui è uno spacciatore di tormenti. A San Giovanni Rotondo non si va per mettersi in pace con la coscienza, ma per farsi togliere la pace e ricevere in faccia una brancata di rimorsi. Chi trova comodo Padre Pio, continua Don Pronzato, non lo conosce affatto, ma ne vede una caricatura. Padre Pio è scomodo, difficile, fastidioso, persino insopportabile. Padre Pio è una medicina amara, non un rosolio. Fanno ridere quelli che si vantano, continua Don Alessandro Pronzato, per supponenza o per ingenuità devozionale, di conoscere realmente Padre Pio. Lui resta un personaggio controverso, complesso, sconcertante. Se ti azzardi a smerciare un'immagine definitiva, lui si diverte a sventirti calaborosamente. Parli della sua severità, della sua intransigenza, della sua santa scontrosità. Lo presenti come un tipo indisponente, o almeno che mette in soggezione. E lui ti frantuma questo. Cliché compare sorridente, bonario, alla mano, protagonista di incredibili gesti di tenerezza, preoccupato di metterti a tuo agio, persino in confessionale, che pure da molti era considerato come l'anticamera del giudizio finale. Padre Pio, insiste Don Alessandro Pronzato, è un miracolo che continua. Inafferrabile, nonostante tutti coloro che parlano e scrivono di lui, o pretendono di gestirlo a proprio vantaggio. Io invece ho maturato la convenzione che con Padre Pio si rischia di perdere la testa. Lui ti consola più di ogni altro, ma ti fa anche perdere il sonno. Ti dà una grande serenità, ma ti mette anche addosso strani travalli e imprecisate angustie. Ti offre certezze, ma fa anche geminare non pochi sospetti. Ti regala qualche morbida carezza, ma non manca anche di graffearti la pelle troppo delicata. La sua frequentazione ti dà un senso di sicurezza, ma tutto a un tratto ti ritrovi anche spaesato, sperduto. Ti illudi di sistemarlo per benino e lui ti spiazza. Padre Pio non sta alle regole del tuo gioco, conclude Don Alessandro Pronzato. Ed è proprio vero. Quando morì, il 23 settembre del 1968, il quotidiano Il Tempo scrisse che era figlio di una chiesa difficile e non accomodante, forse di una chiesa di alti tempi. Ricordiamo che il Vaticano II era finito da tre anni, e il 1968 fu l'anno delle umane vite, della contestazione studentesca. Ma era amato proprio per questo. Sì, perché Padre Pio ti dava la verità, ti dava Cristo. Era innamorato di Cristo, Padre Pio. Quest'amore per Cristo lo bruciava, lo consumava. Tant'è vero che aveva anche il dono mistico della cosiddetta febbre d'amore. Le sue temperature corporee arrivavano addirittura a 50-55 gradi. E questo bruciore, questo zelo, questo fuoco che bruciava senza consumarlo, lo assetava di anime. Voleva portare quante più amine possibili a Cristo. E qui torna la mistica delle riparazioni così magistralmente spiegata ed esposta dal servo di Dio, Don Divo Barsotti. Quelle stigmate erano la prova che egli era ciò che ogni sacerdote dovrebbe essere, non soltanto in potenza, ma in atto. Cristo in terra. Il raffinato filosofo francese Jean Guitton, alla fine degli anni 60, assistette alla famosa messa di Padre Pio, sempre col vetto sordo, e non riuscì a non commuoversi. Alla fine della messa, tra le lacrime, disse, ma questo non è semplicemente un frate stigmatizzato. Questo è un sacerdote crocifisso. Un sacerdote che portò un ammalato da Padre Pio raccontò che l'ammalato non guarì. E quando lui si confessò, gli sembrò una confessione normale. Padre Pio era sì un confessore saggio e esigente, ma non li lesse nell'anima. Quindi rimase molto deluso. Ma al mattino dopo, alla messa di Padre Pio, disse, Io non so se Padre Pio abbia fatto dei miracoli, ma un sacerdote che celebra la messa in questo modo, può tenerne quanti ne vuole. L'altare e il confessionale furono i due poli della sua vita. Come spiegava sempre i suoi figli spirituali, il sacerdote esiste per l'altare e per il confessionale, oltre che per tutti gli altri sacramenti, naturalmente. Io sono solo un frate che prega, diceva di sé. Però aggiungeva, faccio anche il confessore. Confessava dalle 10 alle 16 ore al giorno. Poveri, ricchi, superiori o sudditi, si sono inginocchiati in quel confessionale, che non ti lasciava scampo. Ad un uovo che aveva confessato dei peccati contro natura, gridò, vattene, il tuo peccato fa schifo anche al diavolo. Mentre oggi invece si tende a sminuire la gravità e la sozzura di questo peccato. Ad una donna che aveva abortito e non mostrava il minimo promettimento, gridò, battene, assassina, hai ucciso tuo figlio. Trovati un sacerdote che ti assolve, perché io non ti assolverò mai, non voglio finire all'inferno come te. Ad una figlia spirituale che portava le maniche corte, disse, te le segherei le braccia, soffiresti meno che al purgatorio. Ad un'altra figlia spirituale che confessava di aver calunniato, disse, se ti tagliassero la lingua con ferro rovente sarebbe meglio per te, soffriresti meno che all'inferno. Un uomo che confessava di aver mentito ridendo e scherzando, padre Pio disse, ah, bravo, andrei all'inferno ridendo e scherzando. A chi bestemmiava, diceva, attiri la maledizione su di te e sulla tua casa. Oggi si tende a giustificare il divorzio, addirittura ad accettare sotto banco le seconde nozze. Ma padre Pio dichiarava il divorzio e la scorciatoia per l'inferno, la strada dritta per l'inferno perché distrugge la creazione di Dio. Quando subito dopo il Vaticano II prendeva piede la legittimazione della contraccezione e gli fu detto che tutti praticamente ormai erano favorevoli alla pillola, lui rispose, sì, anche all'inferno sono tutti favorevoli alla pillola. E dicendo questa frase si recò nel confessionale, pronto come sempre a negare la soluzione a chi faceva del talamo un porcile. Ai suoi figli spirituali fidanzati o già sposati rammentava sempre, ricordate che i peccati contro il matrimonio sono quelli che Dio perdona meno facilmente. Infatti sappiamo che Sor Lucia scrisse al Cardinal Cafarra che l'ultima battaglia fra la donna e il drago sarebbe stata sulla famiglia. Padre Pio è così, o lo accetti e ne accetti le richieste o lo rifiuti, perché egli, come disse ai suoi superiori, quando confessava, sempre vedeva il volto di Gesù. Se il volto del Signore Maestro era dolce col peccatore, allora anche Padre Pio era dolce col peccatore, ma se il volto di Cristo era duro e severo, altrettanto quel confessore stigmatizzato lo era col penitente. Innamorato di Cristo, tanto da versare per Cristo, non una volta sola, ma per 50 anni della sua vita, ogni goccia del suo sangue. Così si salvano le anime. Lacrime e sangue, diceva sempre. Padre Pio esigeva, come lo esige il sacramento della confessione, il pentimento dei peccati di chi si confessa, il fermo proposito di non commerteli più. A un penitente disse, Cristo si è rotto il collo per te e tu non sei disposto a fare niente per Lui. Padre Pio è stato disposto a fare tutto per Cristo, tutta la sua vita, fino alla fine. Egli è stato davvero un vero e perfetto imitatore di Cristo sacerdote. Egli è stato, come Egli si è definito, tormento di anime, fuoco di volatore e la sua missione non è finita. Continua anche oggi in cielo. Chi vi parla è un'anima che è stata convertita, riportata nell'ovile di Cristo, cioè nella Chiesa, da Padre Pio da Pietrelcina, questo grande santo a cui tanti devono tutto. Grazie Padre Pio. San Pio da Pietrelcina, prega per noi affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Laudetur Iesus Christus, sempre laudetur, Ave Maria. Grazie a tutti. Grazie a tutti.